E' discosto Evergreenà, si ritrae Giulia Griff, fa lo stesso Gagliera S Allo stacco, in tre su di una linea, Ere Griff di dentro, Rolo di fuori, a centropista General Rocker Ere Griff ha rispinto Rolo quando si imbocca la prima curva, mentre si infila di dentro Gian Demoni I primi 200 di Ere Griff in 13,5 e Battistrada nei confronti di Rolo che è rimasto di fuori Quindi Gian Demoni, Speciale dei Fab, Galadram, di fuori anche General Rock Ma in seconda pariglia Speciale dei Fab, tagliando fuori General Rock e rimane in terza La scia di Speciale subito presa da Galadram in anticipo su Gagliera S I primi 400 in 28,9, corsa abbastanza mossa con General Rock che insiste, gira Rolo e si porta su Ere Griff I primi 600 di gara si completano così, in un normale 44-13, 38 tattico dopo lo strappo Ci sono Repariglia, in testa Ere Griff, di dentro c'è Gian Demoni e c'è anche G.C. Light Di fuori General Rock, Rolo e Speciale dei Fab e Galadram che fa la mossa poco prima della metà gara in terza corsia 37 il parziale, 59 e mezzo metà gara Pietro Gubelini ha giocato d'anticipo, se ne via cattivo in terza corsia Arriva i lati di General Rock e insiste, mentre si muove anche Galadram insiste sul parziale veemente E arriva al chilometro di fianco Ere Griff, 1-13, 4-29, 1 Dal palo sino metà le tattoposta, si getta di galoppo General Rock Galadram è arrivato ai lati di Ere Griff che sembra avere speso Intanto Galadram si avvicina arrivando a due lunghezze dai primi due Il parziale, 27 e mezzo, 1-27, i tre quarti di miglio con Galadram che insiste su Ere Griff che abbraccia frusta da tempo Galadram sembra andare un po' più facile, quindi ci sono Rolo e Speciale dei Fab Ha sbagliato anche Galliera S, l'ingresso della retta d'arrivo con Ere Griff di dentro Galadram che insiste, Ere Griff si difende ancora Galadram che lo attacca, quindi è Speciale dei Fab Galadram va su Ere Griff, prende un collo a 80 dal palo, finisce bene Speciale dei Fab Galadram prende la meglio e vince una corsa grazie alla guidata di PG che ha anticipato tutti a metà gara 29 anche gli ultimi 4, 1-56 e 1 il tempo totale, 1-12-6 la media al chilometro La vittoria meritata per Galadram, Pietro Gubellini, il training di Eri Rantanen, la quota al totalizzatore di 3,5 Grazie a tutti Grazie a tutti